Siamo in un fazzoletto di terra meravigliosa, tra la facciata della cattedrale di Santa Maria del Fiore, la porta del Paradiso, il campanile di Giotto, la cupola del Brunelleschi. E qui, nella venerabile Arci Confraternita della Misericordia, l'8 aprile 2010, è in atto la prima mostra fotografica bandita dalla Misericordia.